Bella a tutti ragazzi, video breve 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 Allora praticamente è iniziato il Luca Comics e io andrò lì per fare due cose La prima cosa è pubblicizzare il canale, quindi mi porterò dei volantini che consegnerò un po' in giro Invitando la gente ad iscriversi al canale e offendendola chiaramente se li getto a terra E a registrare un video che poi pubblicherò sul canale una volta che sarà pronto, spero presto Comunque, se per caso qualcuno di voi dovesse essere a Luca Comics oggi, quindi il 2 novembre 2017 e il 4 novembre, tempo permettendo Mi cerchi che ci facciamo una foto insieme e magari vi includo anche voi nel video Comunque, se volete trovarmi, cercate la mia maglietta che mi sono fatto fare Cioè in realtà l'ha fatta fare la mia ragazza da una tizia E sì, diciamo che la maglietta si riconosce anche se ha cambiato la scritta Non ci sono più i bordi nel coso, nel disegno, vabbè Seconda cosa, mi scuso se non ho caricato video la scorsa settimana Ma il video della canzone che ho caricato ieri mi ha portato veramente via un botto di tempo E quindi ho dovuto ritardare Ragazzi, io ve l'ho detto, se siete a Luca Comics il 2 e il 4, cercatemi che ci facciamo una foto o un video insieme Io ho detto questo, vi saluto e se vi piace quello che faccio lasciate un bel polliciano in su Se non l'avete ancora fatto e siete nuovi, iscrivetevi al canale Se volete seguirmi tutto quello che faccio e che farò, passate anche dalla mia pagina Facebook, il link lo sparo giù in descrizione Noi ci becchiamo presto in un nuovo video E quindi, ciao!